Intervento dei vigili del fuoco di Veneria Reale questa sera, domenica 11 febbraio, intorno alle 18.30 per un principio di incendio nell'alloggio situato in un condominio di Viale Buridani a Veneria. Sul posto in via precauzionale è intervenuta anche l'ambulanza della Croce Verde. La scintilla pare che sia scaturita dal cortocircuito di una presa elettrica. Fortunatamente il pronto intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il principio di incendio diventasse un rogo.